Ciao a tutti ragazzi, qui parlate di Dysac44, bentornati dopo una pausa di due settimane ai video di Gravity Rush 2 Calmi, i video non sono stati caricati per due settimane, non per via dei segnalatori degli strike Ma semplicemente perché io sono finito, c'avete presente quei giorni in cui non hai voglia di far nulla Dove, si vorrei ma, no magari un'altra volta, ecco Poi per il lavoro, sono stanco, gli impegni e in più sto montando il nuovo pc Eh, sembra, sembra ma il tempo, ne abbiamo veramente poco Vabbè, andiamo avanti va, vediamo di recuperare Eh, se no non recuperiamo più eh, va, andiamo Ma chi c'è? Cazzo ma è quasi caduto il microfono, voglia cane Sì Non è qualche cosa, non è difficile, stai facendo un'altra volta, va, e va, e va, e va, e va? Eh, ma chi c'è? Non è l'ultima, cosa è un'altra volta, è la sua, però E la sua è la sua E la sua, non è la sua E la sua, non è la sua Episodio 15 La rondine nello specchio Oh mio Dio la classica radio Mamma mia non è ingegneria aerospaziale Andiamo 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 Si va in azione Eh già Il mondo è proprio piccolo eh Kat Eh si Allora che ti è successo amico Come sta per esplodere Ma che Mizzica ci mancavano anche Quei boom si fanno esplodere Oh madonna L'unico grigo buono È un grigo fermo Però suona bene Non è sbagliato Come man in black ragazzi L'unico scarafaggio buono È uno scarafaggio morto Beh man in black Così quasi me lo riguardo Pam 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 Vediamo Qui eh Vediamo Vediamo Eccolo lì uno Tiè Fuori uno Dov'è il secondo Pronto? Sì pronto Dov'è Dov'è Dunque Dunque Ah eccolo lì Oh merda Eh ma è vicino a delle persone Cavolo Donna No 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 che No io non mi avvicino a una cosa inesplosa Cat Va che Va che questo esplode Uff Vediamo I C'è Ma C'è Sì Cap Un Z Un 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 Ecco adesso sto registrando E ci sono i cani del cavolo Del mio vicinato che si mettono ad abbagliare Madonna ladra Allora Ovviamente non è qui E certo sarà qui Guarda 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 Fermo lì Mani in alto Ah! Sì 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 Oh madonna E se parte questa musica Vuol dire che sono cazzi amari Miss Madonna No vabbè Quali sono missili V1 e V2 Cosa sono madonna santa Sono supposte enormi Dov'è Vai 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 Eccoli Forza Allora ne prendiamo uno con la stasi E l'altro Lo distruggiamo Vai Sì No proprio adesso Cavolo non ce la farò Non so se ce la faccio Madonna ce l'ho fatta Non pensavo di farcela Invece ce l'ho fatta Mamma mia però ci è mancato pochissimo Come faccio a distruggerli Ero Distruggere quelli più vicino Come faccio a distruggire dejcate Ero Ero Va Ero Grazie a tutti. Vai, dai! Non so se ce la faccio. No! No! Non ho preso la mira, mannaggia me. Non da capo. No, eh. Ah, il primo game over del gameplay. Bene! Bravo Jacopo! Due settimane che non fai video ti sei rincoglionito per bene. Bravo Jacopo! Sei la solita testa di cazzo. Ah, quanto è bello fare i video, ragazzi. Ah, però mi dà il checkpoint. Ah, pensavo da capo. Andiamo di prendere la mira stavolta. Cosa? Non l'avevo colpito? No, vabbè. Ma dai, non ci posso credere. Ragazzi, oggi non... non gira. Ma porca... Non si può, ragazzi. Oh, stasera non gira, eh. Bravo. Boh, eppure a me mi sembra di prendere la mira. Non capisco perché. Oh! Ok. Ok. Cosa? Ah perché Ecco perché non li prendevano Non è che vi mancavo E che erano troppo distanti ed esplodevano all'impatto Ecco perché Cavolo E infatti l'ho lanciato L'ho mirato e quello lì è esploso all'ultimo Vasta è finita? Cazzo sono velocissimi Diciamo così Mi è venuta un'idea Infatti potranno anche essere veloci ma Aia Brutto Vieni qua Ah sì? Allora proviamo così E beccati questa Dai Porta il tuo bel faccino da me Dai vieni da me E la madonna Grazie Un po' d'aiuto non fa male Vai No vabbè dai E vabbè Eeeh Madonna Dai ma stasera non me ne va bene una No Vai a cagare va Diccio Eeeh 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 non lo so oggi non lo so ragazzi mi sembra che anche la play non lo so la play ce l'ha con me stasera boh veramente non so che dire prima mi si blocca l'attacco poi mi si blocca questo ovviamente so cosa dire no no oh e va cia pain di ball va ecco casi no non mi scappi vieni qui ma brutto madonna santa non riesco a prenderlo eeeh c'è eeeh allora tu stai zitta non è serata ok non è serata eeeh vaffanculo va dai non è possibile che da 40 metri d'altezza mi prendano con dei normali mitra ma per favore e ora vedi non saltare eeeh va eeeh adesso va vaffanculo eeeh va prima non mi va l'attacco adesso mi va ahhh ahhh non mi va l'attacco non mi va l'attacco ma non mi va l'attacco ahhh 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 Sì, ovunque, fess, juicy. Si so qua, c'è giù! Le blegma e alla due. Chudu, fessant.